Il Consorzio di Bonifica dell'Ao e dei Baccini del Tirreno Cosentino riparte dalla Infoformazione. Nell'ambito del programma di sviluppo rurale Calabria 2007-2013 è stato presentato questa mattina l'asse 1 del progetto che mira il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. Una serie di 10 incontri tra seminari, convegni, open day con visite presso aziende virtuose per addetti del settore, giovani imprenditori agricoli, cooperative di produzione, società di distribuzione e di trasformazione dei prodotti agroalimentari realizzati con il partenariato della Meridio Onlus. Il problema fondamentale è quello di portare un messaggio in quest'area del Tirreno legato alla ripresa dell'agricoltura, far conoscere i finanziamenti che ci sono e attivare un ciclo informativo che sia sempre presente sull'area perché non sarà solo il Consorzio a iniziare questo tipo di attività, ci saranno una serie di altri comuni, una serie di altri soggetti che in quest'arco di tempo che va da marzo a settembre illustreranno tutte le nuove tematiche, tutti i filoni di finanziamento del PSR Calabria. Alla presenza di docenti universitari saranno trattati temi come l'agricoltura multifunzionale, i costi e i benefici delle denominazioni geografiche, la conservazione delle varietà locali e le leggi regionali a tutela. Un modo per confermare e riaffermare la presenza del Consorzio sul territorio ed il suo ruolo. Noi siamo qui, vogliamo svolgere un ruolo da protagonista sul territorio, puntiamo allo sviluppo economico di questo comprensorio e lo facciamo anche attraverso questa attività informativa con un gruppo di professionisti che fa da monitoraggio sulle risorse finanziarie.